ciao a tutti ragazzi oggi siamo qui con fobia the fear of the darkness un gioco horror così random che ho scelto tra tanti che ne stavano e come vi ho detto io non sopporto i giochi horror non riesco a reggerli ho messo la webcam solo per i giochi horror così vedete che mi cavo addosso e siete contenti quindi dopo aver detto questo cominciamo loading 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 ah di mio fobia si si mi piace eh investigate non posso dare indietro nella tempesta perchè? 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 cazzo era meglio fuori qua dentro no? va bene va bene come si aprono le porte? con l'aereo porca troia sta musica del cazzo ma non si vede una minchia cioè già su youtube i video sono più neri rispetto a quando li registro figurati mo quanto cazzo si vede cioè non si vedrà niente porca troia non mi piace questo posto vediamo ciao ciao no c'è un'altra porta no c'è un'altra porta quale scegliere tra le due ah vi dico anche che non so cosa si fa in questo gioco perchè è tutto scuro se vedi indietro qua c'è una strada eh porca troia mi sto cercando introsso ragazzi blocked bloccato bloccato che cazzo di rumore che cazzo ah è una luce no non mi piace quel caritoio buio ma dovete che ero male brutti no è bruttissimo questo caritoio porca troia è bruttissimo ahhh 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 mi piace questa musica ciao ciao c'è una chiave a forma di cazzo no qua c'era qualcuno che si masturbava con una chiave a forma di cazzo prendiamolo prendiamolo come si prende? E R Z F con invio con invio non sono le 3.10 però fa niente si vede molto queste finestre al contrario ma io vado indietro dico ma non so dove cazzo sta andando schiacciamola a random magari c'è una porta no non c'è una porta guarda quanto cazzo è brutto sta cazzo di tensione porca troia qui qui abbiamo una chiave possiamo sboccare qualcuna porta? suppongo non questa che cazzo è? cos'è? ah una porta porca troia mi sono andato addosso sono andato proprio random ragazzi oh attenzione quanto è brutto quella porta quanto è brutto qua qua? porca troia oh cazzo non voglio entrare da sotto c'è una bici mi sta guardando è una moto guarda che brutto rumore porca troia cazzo in culo basso il volume anzi no voglio morire oh cazzo ma ragazzi io non voglio andare avanti posso rimanere qua? mi sto divertendo io non ce la faccio a fare questi giochi porca troia cos'è una zucca? un imondizio perchè qua non c'è un'uscita cazzo? che cosa sono quelle due cose? due palle cazzo invio? ho preso un'altra chiama ragazzi ragazzi mi sto iniziando a avere i dubbi se succede qualcosa in questo gioco devo trovare devo andare dentro così nella casa cazzo in culo e devo trovare il nuovo fusibile penso non voglio girarmi no c'è nessuno com'è l'hoked? omg ti prego ah ok ok ma che cazzo è questo rumore? ok sta registrando penso che cazzo? nooo quanto quanto è che sto registrando? vabbè andiamo random in giro per la casa così girando random per la casa investigate no sono ritornato all'inizio troll no 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 io cammino all'indietro no c'è nessuno non è locked come si... non si può aprire questo ctrl apriti apriti no niente ma succede qualcosa in questa cazzo di... che è successo? ho sentito rumore? no mi hanno chiuso la porta mi hanno chiuso dentro ho 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 ah c'è nessuno cos'è su... non mi piace loading non mi piace loading perchè loading bene ragazzi nel prossimo... finiremo questo gioco nel prossimo video ciao a tutti mettete mi piace commentate basta ciao a tutte vediamo